Nel manifestare la piena solidarietà alla popolazione, a tutti coloro che stanno scappando dagli orori della guerra, richiamo a tutti i colleghi sindaci quello che noi possiamo e che abbiamo sempre fatto. Siamo pronti a un'accoglienza nella tradizione storica della sensibilità e dell'accoglienza dei comuni piemontesi per poter dare subito una risposta a quelle che sono le necessità più immediate. Sicuramente la necessità che noi tutti ci adoperiamo per un censimento per quanto riguarda possibilità di destinazione e di sostentamento per queste persone che scappano dagli orori della guerra, sicuramente in attesa degli ulteriori provvedimenti dopo il provvedimento dell'emergenza e per quanto riguarderà le disposizioni e i provvedimenti che devono essere emanati ulteriormente al governo in questa materia, la possibilità di dare una prima accoglienza e di essere pronti di essere nella capacità di essere vicino il più possibile a tutti coloro che davvero in questo momento ne hanno un grande bisogno.